Sabato 7 settembre alle ore 18 presso la sala Proloco San Martino Cilento si è svolta l'inaugurazione della prima edizione del concorso Zibaldone Pittorico Copie d'Autore in Libertà dedicato alla memoria del pittore Giuseppe Di Marco che è stato ricordato con una interessante mostra di sue opere e dalle emozionate parole della presentatrice della serata Teresa Miglino Ricci. Grande successo di pubblico e partecipazioni al concorso di ben 10 pittori che hanno presentato le loro bellissime riproduzioni allietando con i colori del loro tele le pareti della Proloco promotrice dell'evento il cui presidente Angelo Niio ha così commentato bellissima serata di arte e cultura nel ricordo di un grande artista di cui ancora oggi è possibile grazie alle sue opere apprezzarne la modernità. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 21 settembre serata in cui una qualificata giuria premierà le migliori copie d'autore.